Benvenuti in questo nuovo video, è un video molto breve perché in questo video scopriamo il vincitore del concorso per questa scatola di minecraft e si ragazzi non è una scatola normale perché è anche piena, ci sono i lego dentro perciò niente ragazzi qua abbiamo i bilettini con tutte le persone che partecipano per farvi vedere guardate ragazzi allora, per esempio delle persone a caso per farvi vedere che è tutto vero non c'è nessun trannallo, nessun scherzetto non c'è già un vincitore prestabilito e niente ragazzi, adesso questi bilettini li metto tutti dentro il cappallo adesso mettiamo tutto dentro il cappallo e adesso mescoliamo per bene vediamo chi sarà il vincitore del nostro concorso allora ok ragazzi noi abbiamo mescolato tutti e adesso scopriamo chi è il vincitore del concorso allora, ne stagliamo un a caso ma allora adesso no, questo non mi ispira questo non mi ispira neanche questo e niente ragazzi allora questo è il nostro vincitore apriamo e leggiamo il vincitore ragazzi allora il vincitore è sono sbagliati a Cernicenco ok complimenti hai vinto questo regalo in più di Natale e niente ragazzi spero che nel prossimo concorso sarete voi a vincerlo e niente ragazzi per adesso il mio canale è ancora pochi iscritti poi ciò non posso fare regalo a tutti e per adesso regali uno soli per ogni tanto e niente ragazzi sono felice che qualcuno sia stato a vincere questo regalo spero che questo video vi è piaciuto anche se non l'avete vinto però ragazzi scusate non posso fare di più e niente ci vediamo nel prossimo video bella a tutti e alla prossima bella